namaste io sono ace the brave bentornati ad un altro episodio di the banner saga la nostra fame è a 15 il nostro giorno di provviste sono a 100 il morale molto alto come potete vedere qua ci sono le opzioni proviamo a usare il gamepad oggi andiamo un'occhiatina vediamo un attimo come funziona e vediamo di andare a qui comunque c'è questo andiamo pure al porto a salutare i nuovi arrivate vognir un varla familiare passeggia sulla banchina rivedi nella tua mente una sua versione molto più giovane vagare per le sale di grofheim pieno di determinazione cielo ubin sembri stanco capita invecchiando e se c'è vognir deve esserci anche a con deve ancora salassare tributi da poveri stupidi vecchio yox a che età hai perso il senso del pudore ordine di jorundr meglio così che finire ammazzati a grofheim a proposito non sapevo che tu fossi così lontano da casa stiamo tornando ora da arberrung a dire il vero fortunatamente a con indica altre navi nella baia con le vele ancora svolazzanti testa di lupo d'oro blasonata sul rosso il re degli umani o qualcosa per suo conto e il cucciolo del re è il figlio di re ludin non lo sai scrivano noi visitiamo la sua capitale lui visita la nostra è così che si fanno le alleanze al giorno d'oggi quindi per la lord del gioco vogner è il capo dei varl ludin è il figlio del re degli umani e sono appena stati ad arberrung che è la capitale degli uomini mentre grofheim è la nostra capitale è una dannata è una dannata perdita di tempo sia con una ragione l'avevo quasi dimenticato è una buona cosa averti qui a con quindi ora andate a grofheim ho la netta sensazione che il mio lavoro a strand si è finito e mi stavo dirigendo lì anch'io potremmo andare insieme potremmo aspettiamo un giorno in circostanza migliore resterei a bere una settimana ma andiamo e basta mi trovi domani alle porte ciò che sta cercando di dire è chi ama passare il tempo con il principe che a quanto pare no dov'è mogr a con trovagli un posto per sistemare i guerrieri sto andando incontrare il governatore un gruppo di giganti lo segue ne riconosce alcuni altri ti sono estranei credo che andrò a cercare mogr ci vendiamo in mattinata scrivano ci sarò il giovane principe degli umani scende tranquillamente dalla sua nave si strofina la tunica scoltando la spiaggia di sottecchi ludin sembra il tipo di ragazzo che è cresciuto staccando le zampi e ragni secondo te la lunga strada di ritorno a grofheim potrebbe essere più interessante degli anni precedenti e così conosciamo questo nuovo personaggio che è ludin improvvisamente ti senti stanco e ridacchi da solo su quanto è stata bizzarra la giornata uno degli uomini del governatore al salone potrebbe trovarti un posto per dormire d'altra parte se domani ti unirai alla carovana di vognir non sarebbe male bere qualcosa con acon e presentarti al principe di cui ti hanno parlato così bene usa l e rb per evidenziare l'icona parla e poi premia per conversare con l'eroe oppure possiamo semplicemente indicarlo e prenderlo andiamo a parlare poi con acon intanto quindi facciamo così possiamo decidere con lb insomma abbastanza semplicemente andiamo a parlare con acon intanto scrivano trovi acon in una taverna circondato da altri varl strand non è strane ai varl ma ralmente ne ha visti così tanti acon ti fa un cenno di saluto subito sulla caraffa vognir ha deciso di rinunciare non ho bevuta non io comunque non sono stato invitato alla sala del governatore ti sei anche perso il marsacro ogni anno il giro di riscossione delle imposte ogni anno gli insediamenti umani mi danno problemi come sempre cosa è successo stavolta quando sono arrivato qui era già pieno di cadaveri ne abbiamo aggiunto qualcun altro ah umani credo che se vivessi qui più a lungo di una scorreggia di yox cercherei anche io di fare qualcosa della mia vita non è troppo tardi per provarci acon acon si lascia sfuggire una risatina qualsiasi varl potrebbe raccontare le sue gesta tanto è conosciuto per aver aperto un varco tra i distruttori al fianco di vogner nella seconda guerra e per molte altre imprese qua giù sono una guardia del corpo rinomata forse hai ragione un altro motivo per tornare a grofheim buona idea bevi finché la taverna non diventa opprimente poi esce all'aria fresca e quindi abbiamo conosciuto qualcosina in più di acon conosciamo anche ludin a questo punto è questo il posto giusto trovi il principe in una locanda l'edificio è pieno di guardia incluso un varl dalla vista acuta che deve lavorare per ludin una donna in rosso ti saluta con un cenno e rimane vicino a braccia incrociate saluti principe ludin sei con vogner non mi ricordo di te non proprio conosco vogner da molto tempo mi unirò a voi per tornare a grofheim con le mie guardie ludin alza lo sguardo per la prima volta la donna non reagisce perché lavoro per il re porto i tributi e la capitale ci siamo incrociati per caso ho un esattore delle tasse piacevole compagnia che cosa vuoi solo presentarmi tu raccogli tasse per i territori van un vero piacere sì il disagio alleggia nell'aria come spessa nebbia ne approfitti per andartene ok vediamo pure di andare allora alla great hall la cosa sopra abbiamo perso uno di provviste all'alba vi risvegliato da una consegna di merci o almeno pensi che sia all'alba è dannatamente difficile dirlo con un sole che non si muove mai lo stema del governatore adorna le provvigioni e tutto lì come promesso con la tua leggera sorpresa ti chiedi se eric ha qualcosa a che fare con questo più 20 di fama le tue guardie portano il tesoro alle porte vogner è qui poco dopo per ludin stordito e spettinato con i suoi uomini mogr fa un passo avanti se ricordi bene è l'amministratore di vogner a capo della problematica cerchia di guerrieri lo conosci solo di vista lui chiede se siete pronti a partire siamo pronti segui mogr e ti unisci agli altri di solito i piccoli accesi in sé accessi inseriti nei portoni sarebbero sufficienti a entrare e uscire dalla città ma le guardie è stato detto di tenerli aperti interamente mormonano cose tra di loro sussurri che è meglio non udire forse il governatore si aspettava che attirassi un po di folla ma non c'è niente del genere solo gente stanca e frustrata questo riassume strande del suo complesso complesso pensi ok e siamo pronti per partire questa è la terza meccanica di gioco cioè il viaggio partiamo con il nostro viaggio abbiamo 366 varle 85 combattenti 35 di fama e un po di provviste possiamo premere y sul questo per vederlo oppure semplicemente andare a usare le provviste in questa maniera e oppure avanti opzioni qua ci fa vedere insomma come funziona il gamepad se abbiamo le levette sinistra destra sensibilità eccetera eccetera configurazioni varie ma noi lasciamo pure tutto a posto e stiamo per arrivare a quanto pare sta passando il secondo giorno qua c'è vederfell la carovana si ferma per la sera un dono dice mogra prendono botte dal nostro gentile amico il governatore di strand le ore trascorrono tra rauca e risate mentre il vino passa per il campo bevi un po bevi molto brindi a wagner brindi a wagner sollevi il tuo boccale brindando all'alleanza tra wani e varle gli altri si uniscono l'espressione diludine come un muro di pietra ma gli altri ridono le tue battute alla fine ti siedi accanto a wagner chiacchiere con wagner ci vai piano col beve bere bevi allegramente chiacchiere con wagner quasi quasi cosa facciamo di bello possiamo 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 secondo me conviene chiacchierare con wagner grazie per le tue parole biashica wagner sembra che tu non ti sia perso niente dopo tutto grazie a mogra pensavo che quel dannato governatore non sarebbe mai stato detto ti ha raccontato la storia di tutta la sua famiglia ci ha provato poi mi ha chiesto di riportare l'ordine a tuo vantaggio a quanto pare ti avrei dato anch'io quel lavoro per i dei non c'era non c'è gioia nella politica ma proprio cosa cosa succederà dopo questo affare con ludin speriamo che il ragazzo ritorno da arberang sulle sue gambe e io sfogherei la frustrazione sui distruttori su qualcos'altro comincia a parlare come a con non ti piace la vita del diplomatico ah ah non ti manca la battaglia o bin tra canni il cuore invece di rispondere wagner si stravacca e scuote la testa uccidere i distruttori non è un grande divertimento ma questo sono abbastanza sicuro che questa assurdità un piano dei due re per forzare la linea di discendenza in passato i guerrieri ti seguivano per quello che facevi non è questo che perché non è per questo che ti seguono adesso è per questo o perché sono il prossimo nella linea queste linee sono torbide vecchio var sono sempre state torbide wagner wagner fissa il fuoco perso nei suoi pensieri non lasci solo quindi c'è questo capo che sente un po il peso della della corona se si così ti alzi intontito l'intero campamento è vittima della dopo sbornia mogr sta già svegliando i guerrieri e calci a calci quando vedi ludin venire nella tua direzione cammina evitando i corpi addormentati è meglio svegliarsi dai un colpetto a wagner ti cercano a ludin è sempre piacere sembri ben riposato vogner si lascia scappare uno sbadiglio e si becca un occhietaccia quanto è lontana grafheim siamo solo due giorni da strand vieni te lo mostro su una mappa e quindi per la prima volta esploriamo la vappa questa è la mappa del mondo puoi esplorarla facendo paramamica con z o zoomando oppure possiamo spostarci in questa maniera la posizione della corvana è indicata dall'icona di ubin e qua vediamo insomma tutto quanto la mappa del mondo è ricchissima di luogo e informazioni puoi esplorarla in questissimo momento selezionando dei luoghi e premendo a per le informazioni questa è la mappa del mondo che vediamo in totale molto grande lo visiteremo quasi tutto ma in questo capitolo le visiteremo una parte un po più breve il nostro viaggio parte appunto dalla costa dove c'era strand dove c'è strand che è qua e ci stiamo andando se clicchiamo sulle cose appunto vediamo il fiordo di carle il fiordo che si divide nel territorio varle preso il nome da carle l'unico varle che si è diventato governatore di strand anche solo per poco tempo prima che il titolo ritornasse alle famiglie di umani cui internet è originariamente fondata la loro città quindi questo è appunto strand la città che abbiamo visitato essendo quasi un bastione della tolleranza razziale sia umani che varle competono per sbarcare il lunario nella più grande città commerciale della costa occidentale molte persone credono ancora che il dio dangler vegli su di essa garantendo buona sorte quindi questa è la la città di strand noi siamo stiamo andando e stiamo cercando di arrivare intanto a vederfell vederfell è questa città soprannominata a cattivo tempo vederfell è generalmente sgradevole per via delle burrasche che soffiano dalla baia e intorno alle cime delle montagne quello che ha rinsaldato il nome è il tipo di gente che vive qui umani scacciati da strand per un motivo per l'altro che nessun con nessun posto dove andare e seguiremo poi appunto il nostro obiettivo è arrivare fino a grofheim che se non sbaglio è qua sopra esatto la capitale la capitale dei dei varle che stanno qua al nord e invece arberlang è qua sotto quindi loro arrivano da qua che è la capitale degli umani di umili origini è arrivata ad essere la sede del potere regale arberlang è la più popolosa e contesa delle città delle terre umane ogni nuova generazione di residenti costruisce un anello intorno di un altro anello di mura la città continua ingrandirsi più decadente più pericolosa quindi è una città molto particolare molto difficile da conquistare e tutto fa parte del ronde valla nella prima guerra grande guerra umani varle combatterono ferocemente per gli abbondanti terreni agricoli e le traboccanti coste traboccanti di pesci di rundval solo con l'aiuto dei riparatori rundval divenne alla fine la casa di arberlang la capitale degli umani e manhar dove i riparatori potevano riunirsi in concilio quindi questa è una zona e questa invece un'altra regione il crown gli estesi nevai le alte montagne i boschi radi di crown vennero usati come punto d'incontro dei distruttori durante la seconda grande guerra mentre varle li spingevano sempre più verso nord conquistarono questa terra e ci si stabilirono preferendo le distese fredde rispetto alle calde terre occupate degli umani del sud ora questo territorio è quasi interamente dei varle quindi questa è la zona varle insomma verso nord mentre gli umani a quanto pare sono più verso sud e vediamo infine la wandering road che è quella che ci porterà insomma un po' più in là anzi no la vediamo un'altra volta questa però è interessante questa cosa perché c'è anche il last gate qua da qualche parte che è cliccabile quindi usciamo pure dalla mappa e vediamo un po' quando è finito premi B oppure semplicemente premi la X qua sotto mi dà le indicazioni per per una e per l'altra ci dirigiamo a nord poi a est oltre i forti Grofheim è lontana da strada sarà una lunga marcia avresti dovuto bere la scorta scorsa norteludin perché non portiamo le navi a Schirmiersted che senso ha marciare la bella di Silverstone è chiamata così per un motivo è coperta di ghiaccio tutto l'anno potrebbe fare a pezzi le navi peccato però avresti potuto vedere tutte le meraviglie di Schirmiersted una città mezza affondata brulicante distruttori principe distruttori e ghiacciai ti piacciono i ghiacciai Ludin espira dal naso un misero mascheramento del suo disprezzo si gira e sbatta i lembi della tenda andandosene urlando ordine alla sua compagnia in lontananza non stuzzicare il formicaio Vognir neanche lui sembra felice di essere qui passa qualche altro giorno con il ragazzo vecchio mio e anche tu sarai alla ricerca di una scogliera abbastanza alta Ludin ha un caratteraccio peggio di Akon grazie Vognir ora muoviamoci ma che ancora mezza giornata a Vederfell se siamo fortunati ok quindi ci avviciniamo a Vederfell dopo che abbiamo fatto un po l'accampamento 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 è dove puoi gestire la tua carovana durante il tuo viaggio puoi entrare nell'accampamento in qualsiasi momento premendo accampamento dall'interfaccia di viaggio mentre sei nell'accampamento o in città puoi aggiornare i tuoi alleati equipaggiare oggetti alla tenda degli eroi puoi far passare il tempo usando la tenda dormitonio riposare migliorerà il morale della carovana il morale alto ridurrà le perdite in battaglia influirà sulla tua volontà in combattimento ogni giorno passato utilizzerà provviste quindi riposa solo quando necessario la tenda ad estramento ti permetterà di provare in sicurezza ogni personaggio in una finta battaglia per i parti in basso nell'accampamento per tornare sulla strada cercherò di fare qualche cosa in training però tra un episodio dell'altro in modo che mi testo un pochino le cose andiamo sotto la cosa degli eroi intanto perché questi sono i nostri eroi vediamo appunto chi siamo possiamo usare appunto questi per poterli selezionare tutti e vediamo un po di che cosa si tratta abbiamo gunnulf abbiamo ludin gunnulf ha la possibilità di promuovere cosa promuoviamo intanto andiamo a vedere anzi andiamo a cliccare pure con mi trovo meglio col mouse in questo caso gunnulf quando ubi diventa l'esattore delle tasse del re di varle ricevete una cerchia di guardia del corpo per aiutarla a trasportare il loro raccordo attraverso hraun gunnulf è l'unico del gruppo originale ancora in vita e per buone ragioni a tre uccisioni ed è un falco ok il rumore era il mio coso che continua a muoversi possiamo promuoverlo alza le statistiche aumenta il livello dell'oggetto i guerrieri migliori sul campo di battaglia sono quelli che vivono oltre le loro battaglie per iniziare il lungo viaggio continua sei sicuro di promuovere spendendo 5 di fama confermiamo quindi adesso possiamo selezionare quali abilità fare c'è la tempesta che a livello 2 colpisce fino a 3 nemici però per adesso è ancora a livello 1 possiamo migliorare i due punti possiamo spenderli per migliorare che cosa per migliorare allora la sua volontà questa è quanto danno fa questo è la cosa per spezzare questo è per spezzare l'armatura e questo qua invece è lo sforzo quindi quanto in più possiamo dare ai suoi attacchi metterei uno in sforzo e uno in attacco che è il nostro damage dealer numero 1 quindi facciamo pure così e quindi adesso appunto lui ha uno di sforzo che potrà utilizzare purtroppo non riesco a vederlo da questa schermata ma abbiamo questa cosa e qua abbiamo anche gli oggetti gli altri personaggi sono ludin che è un maestro lanciere che ha queste caratteristiche poi abbiamo hakon e poi abbiamo mogr che è il maestro di scudi quindi come lo spacca scudi solo leggermente diverso abbastanza semplice bene 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 possiamo fermarci cominciare ad andarcene il morale è anche alto le provviste ci sono la mappa l'abbiamo vista quindi direi che possiamo anche partire cominciamo ad arrivare verso vederfell meno sei provviste ecco viene introdotto a vederfell questa città di disadattati chiamiamola così perché sono quelli che non volevano stare a strand o che sono stati cacciati da strand e parliamo con un contadino per hardborg tutti questi vall per un po di bestiame scomparso come crede che siamo siamo arrivati per il suo bestiame un paio di giorni fa ho detto a quelli di strand del problema del bestiame non mi aspettavo un esercito sembra soddisfatto di sé finché non si rende conto che non siete qui per lui che fine ha fatto il vostro bestiame non lo so i miei ragazzi hanno visto degli uomini sulle colline che lo portavano via non conosco molti uomini che possono trasportare una mucca intera da soli scalfing qui intorno forse potrebbero essere varle che lavorano per loro non da quello che mi ha detto il governatore vado a dare un'occhiata in giro e allostisco un campo il contadino sputa i suoi occhi guizzano ansiosi sulla carovana che monta le tende non resteremo qui più di un giorno pagheremo argento per qualsiasi cibo tu abbia per centinaia di varle parli seriamente tutto quello che vuoi tutto quel per tutto quello che vuoi vendere state pensando di occuparci non abbiamo abbastanza spazio per un paio di cacciatori qui tantomeno per centinaia di silenzio avete sentito dov'è l'udin non sono debole come di combattimento o qualcos'altro hakon comincia a correre o combattimento in corso l'udin tutto solo contro il distruttore facendo clic su una casella viene creato automaticamente un percorso ma puoi impostare anche più punti quindi io posso cliccare qua e dire continuo a muoverti da questa parte confermiamo la nostra mossa e il bello del nostro personaggio il lanciere può attaccare diagonalmente fino a due caselle di distanza fai clic sul pannello in alto a destra per confrontare le tue statistiche con quelle del nemico quindi possiamo cliccare sta roba vedere che loro sono molto più forti di me proviamo ad attaccarlo l'armatura blocca gli attacchi della forza per ogni punto di armatura nemica superiore alla tua forza c'è il 10 per cento di possibilità che l'attacco venga deviato sopra il pulsante attacco si trova la percentuale di probabilità di colpire attacca la forza di questo proviamo non posso neanche usare questo attacchiamo così infatti l'ho deviato gli attacchi deviati non provocano danno d'ora in avanti fallirai catastroficamente se non danneggio sufficiente la sua armatura da raggiare sia la forza che l'armatura è ugualmente importante ed ecco che arriva nei nostri hacon gunnulf e mogra ok tocca a noi allora abbiamo hacon che ha l'abilità scissione più danni alla forza e all'armatura del bersaglio e dei nemici adiacenti quindi molto bene come cosa possiamo farlo riposare ma possiamo anche farlo attaccare decisamente quindi tu puoi venire pure qua ok e mi attacchi lui all'armatura andiamo a buttarli giù l'armatura tantissimo e hacon ci pensa a buttarli giù quel 5 che vediamo lì perché se lo attacchiamo gli possiamo fare 5 possiamo fargli 6 conviene che gli facciamo 6 vedete che adesso posso spendere 1 BAM! facciamo 10 da questa parte così lui mi fa solo solo tra virgolette 4 tu attacchi lui hai anche il porta dolore danneggia l'armatura del nemico lo punisce con il contraattacco oppure possiamo attaccarlo normalmente sull'armatura e vediamo come ce l'accaviamo contro lui ottimo si è aperto per un attacco possibile tu continua a danneggiargli l'armatura o andiamo 5 è buono questo viene qua mi attaccano sempre tutti i gunulf con la tempesta fai danno radiale a due nemici adiacenti in senso orario quindi lui e lui sarebbero oppure loro due conviene oppure torniamo indietro no becchiamo questo però ho fatto un danno solo più uno male molto male tu attacchi questo ti puoi fare danno fagli danno d'armatura attenzione gunulf tu hai la lasciata qua abbiamo la stella volontà perché possiamo utilizzare queste sono stelle che possiamo utilizzare quando vogliamo e tu comincia a non star bene però quindi a questo punto mettiti qua e attacca questo tutto in armatura ok tu vieni qua e attacchi questo posso anche dire di attaccare per 6 perfetto e tu Akon puoi venire qua a fare l'accettatore sbam e abbiamo promosso Akon possiamo attaccare lui e facciamo promuovere anche Mogr o comunque gli diamo più uno di fama ok tutti i sopravvissuti ce l'abbiamo fatta i nemici rimpiaggeranno dei vesti incrociati Akon è stato promosso e abbiamo guadagnato altre 5 di fama bene bene stai provando a farti uccidere Ludin che cosa stai facendo stavo cercando di trovare un cercando di colpire attraverso le piastre non hai mai visto un distruttore prima ragazzo razza di idiota bisogna prima rompere la loro armatura da dove sono venuti? non li abbiamo neanche visti erano proprio lì Akon va dove Wagner giace a faccia in giù il futuro re dei Varl giace immobile in una pozza di sangue Wagner è morto e inizia il capitolo 2 taglia con spada affilata che vedremo di affrontare però nel prossimo episodio io sono questo bravo namastè e bravo grazie a tutti